Una rinnovata determinazione, una maggiore centratura, la chiarezza, la sicurezza che siamo tutt'uno in questo percorso, magari ognuno con le sue modalità, ognuno con esili tempi, ma che stiamo facendo parte di un processo e che ci vuole anche la pazienza di aspettare, vedere qualcosa che magari non vediamo ma che sappiamo che ci può essere.